E mi ciclo tutti i provvedimenti approvati in consiglio regionale cultura di Nicola presenta le novità del premio Silone. Burocrazia regionale, le soluzioni proposte da Sara Marcozzi. Concessioni balneari, le forze politiche si confrontano sulla nuova legge. Terremoto, Errani e Dipangrazio al premio Avus. Nell'ultima seduta del consiglio regionale sono stati approvati diversi progetti di legge. Il più importante riguarda la gestione della fana ittica nella pesca delle acque interne, legge che rega importanti novità come l'eliminazione del tesserino per la pesca e l'esenzione per i disabili e gli anziani. Approvata anche la legge che prevede la partecipazione della regione Abruzzo alla fondazione Onlus Santa Rita, allo scopo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio regionale delle malattie oncologiche e di quelle rare ed emergenti. Tra gli altri provvedimenti approdati in aula, anche la legge che modifica l'organizzazione del premio Ignazio Silone. Le novità riguardano l'introduzione di un'ulteriore sezione del premio dedicato all'utilizzo dei social media. Un contenimento dei costi riservati ai premi in denaro destinati ai vincitori e la scelta di una data certa per la celebrazione del premio. Importante novità anche per le concessioni balneari. Il provvedimento di legge approvato in consiglio stabilisce che, nell'esercizio delle proprie funzioni, i comuni garantiscano che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009. Il Consiglio regionale continua la sua opera di promozione e sviluppo della cultura letteraria abruzzese e vota in aula un progetto di legge che aggiorna la norma che nel 1995 istituì il premio internazionale Ignazio Silone. Il consigliere Maurizio Di Nicola ne illustra i contenuti. La Regione Abruzzo torna ad occuparsi del premio internazionale Silone, ammodernando l'impostazione di una legge che ormai era datata, con la previsione di una data ormai fissa per quanto riguarda la celebrazione, cioè il 22 di agosto, che è la data di ricorrenza della morte dello scrittore, e introducendo una nuova sezione di premio con riferimento ai social media e alla rete, quindi a quanti intenderanno valorizzare e promuovere questa personalità attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Inoltre si è dato un contenimento al valore economico dei premi, questo senza quindi aggravare le casse della Regione Abruzzo e quindi il bilancio pubblico regionale. Il rapporto sullo stato della legislazione regionale del 2015 assegna all'Abruzzo il terzo posto a livello nazionale nel rapporto fra leggi approvate e leggi impugnate e il primato di regione con il maggior numero di leggi in valori assoluti impugnate dal Consiglio dei Ministri. A segnalarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, che evidenzia la necessità di procedere immediatamente a un riordino legislativo e alla contestuale riduzione del sistema normativo regionale. I cittadini e le imprese abruzzesi devono sottostare in media a un numero di leggi doppio rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Siamo circa a 2.800 leggi. Questa ragnatela burocratica evidentemente opprime il cittadino, opprime le imprese e crea anche contenziosi tra cittadini, regione ed enti. Evidentemente la regione facile e veloce che il Presidente D'Alfonso prometteva in campagna elettorale non si è ancora verificata, non la vediamo quantomeno. Quello che il Movimento 5 Stelle propone sono una serie di iniziative. Il primo è un provvedimento taglialeggi, dunque una ripulitura dell'ordinamento regionale da tutte quelle leggi ormai obsolete che sono ancora vigenti ma che creano solo confusione. E poi la redazione di testi unici in modo tale che si possa avere un'unica legge per ogni tema ed ogni argomento completa e di facile consultazione. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza il progetto di legge che prevede il legittimo affidamento delle concessioni demaniali ai soggetti che ne erano titolari prima del 2010 e inoltre garantisce un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale. Una norma che detta una linea di principio inedita per la Regione Abruzzo con una presa di posizione sul tema delle concessioni balneari volta a salvaguardare gli operatori del settore ma che secondo il centrodestra, che pure l'ha sostenuta, potrebbe incontrare l'opposizione del Governo nazionale a causa di un accavallamento di competenze tra legislazione regionale e statale. Ascoltiamo il primo firmatario della legge, Luciano Monticelli, e il consigliere di Abruzzo Futuro, Mauro Di Dalmazio. Si riconosce a cui il quale godiava di un bene anche pubblico di dare la possibilità di continuare a lavorare, ad operare, perché c'era quel legittimo affidamento e la legge regionale, soprattutto sul codice di navigazione, articolo 37, dove c'era il diritto di insistenza. Noi abbiamo ritenuto, abbiamo visto questa legge che è dal 2009 a quelle precedenti, esca fuori dalla direttiva Borges, perché c'è un procedimento di legittimo affidamento, quelle del 2009, dove c'è l'abbattimento del codice di navigazione, l'articolo 37 della possibilità di poter dare continuità alle attività dei balneari, la possibilità di andare in gara dove si riscontra nel territorio quella che è nell'articolo 12 della direttiva dei servizi, la risorsa limitata. Se non c'è risorsa limitata non c'è bisogno di attuare nessuna evidenza pubblica. Ci auguriamo che adesso non ci sia questa impugnativa da parte del governo, ci auguriamo che si possa andare avanti. Il testo che abbiamo approvato e che abbiamo sottoscritto proprio per denotare e per sottolineare l'unità di intenti politico-istituzionale su questo tema, sul quale non è opportuno né era assolutamente sano dividersi, proprio perché un tema che riguarda solo in Abruzzo circa mille imprese balneari è un settore, un comparto decisivo per la nostra economia turistica. Si svolta nell'aula magna del Gran Sasso Science Institute all'Aquila la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso Avus 6 aprile 2009 che ha visto partecipare le migliori tesi di laurea in Italia sul tema della prevenzione sismica. L'evento, inserito dal Comune dell'Aquila tra le iniziative di commemorazione per l'ottavo anniversario del sisma, ha visto la partecipazione del commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, del Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Il premio è nato nel 2014 con lo scopo di onorare la memoria degli studenti universitari vittime del terremoto. In questa edizione l'associazione Avus Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009 è stata affiancata nell'organizzazione del premio dall'Università degli Studi dell'Aquila e dal Gran Sasso Science Institute. Per la prima volta il concorso si è aperto anche a contributi esterni all'ambito della geologia per abbracciare ingegneria, economia e scienze sociali. Il verdetto finale ha visto vincitori ex equo Marco Zanini, laureato in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Padova e Vincenzo Doriano, laureato in geologia e territorio presso l'Università di Bologna. Grazie a tutti.